Spero davvero arrivi no dei clienti. Questa guerra ci sta rovinando. E mamma pensa che arruoleranno i miei fratelli. Non succederà. Quando lascia di rifare lo sciamole che devi riuscire? E poi? Se invece di no? E che casca il mondo? Che diamine ci fanno questi qua? Mi stanno spingendo gli alleati. Noi useremo questa locanna come base. Sì, certo. E che sei una delle vostre serve. Per quanto tempo saranno piazzati a casa tua? E chi lo so? Se ti scoprono... Un giorno diventerai un bravo soldato. Preparatemi per domani. Mamma... Non voglio non lasciare traccia. Bianca! Hai visto Bianca? Roberto a tutti... Grazie a tutti